Se l'Audi A3 Sportback si è rifatta il look ed ha aggiornato i suoi contenuti, ora tocca anche alla versione con la coda, la sedan, più lunga di 15 centimetri. A caratterizzarla ci pensa una linea più da coupé, visto il lunotto inclinato al posteriore e rispetto a prima, spazio ora ad un cuore high-tech. Al momento del lancio del mercato italiano, troveremo in listino tre varianti d'assetto e motori termici, benzina, diesel e disponibilità anche della tecnologia Mild Hybrid, con batteria da 48V. Il nuovo sistema di infotainment, battezzato nella sorella due volumi, prevede una marcata digitalizzazione che contraddistingue l'intero cruscotto. Per mezzo dello schermo centrale si comandano i media, la navigazione e i servizi Audi Connect. Per completare l'opera bisognerebbe mettere mano al portafogli ed incrementare nella dotazione l'head-up display che proietta a colori le principali informazioni sul parabrezza. A garantire tanta sicurezza, sia attiva che passiva, ci pensano una moltitudine di sistemi per collocare la 3 Sedan ai vertici della categoria. Davanti è inutile dire che ricalca a pieno lo stile della nuova 3 Sportback, per lei le novità infatti stanno dietro. La 3 Sedan vede una linea più elegante, visse il suo sviluppo longitudinale e il profilo del tetto digrada verso il retrotreno, un po' ad emulare le coupé. Culmina nel pronunciato spoiler, a richiesta in fibra di carbonio, collocato al vertice del baudo.